Assegnata al Parco dello Stelvio la Carta Europea del Turismo Sostenibile, per i prossimi cinque anni l'area protetta che si estende su quattro province, Bolzano, Trento, Sondrio e Brescia, potrà freggiarsi del prestigioso riconoscimento di Europarc, la federazione che raggruppa oltre 600 enti gestori di 400 aree protette in 28 paesi. La certificazione qualifica l'impegno partecipato di un intero territorio, enti, realtà economiche, popolazioni locali, associazioni, per la governance e lo sviluppo turistico dell'area all'insegna della sostenibilità, ovvero con un'offerta di turismo di qualità compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità. La Carta non vuole fare del Parco un museo intoccabile e inaccessibile, anzi, vuole valorizzare e al tempo stesso proteggere la fragilità di un ecosistema senza pregiudicarne l'accessibilità e la fruizione, di cui l'adesione ad una serie di buone prassi volte a favorire la tutela del patrimonio naturale dai rischi di un impatto turistico massiccio. In questa direzione le quattro azioni di sistema per il turismo sostenibile, strategia unitaria di comunicazione per lo Stelvio, formazione uniforme e integrata delle guide del Parco, creazione delle alte vie dello Stelvio, una rete sentieristica ad anelli in alta quota, forum di monitoraggio della Carta. La Carta, commenta l'assessore alla montagna, enti locali e piccoli comuni della Lombardia, Massimo Sertori, rappresenta il punto di partenza per sviluppare strategie comuni e reti sempre più consolidate sul territorio, affinché la sostenibilità diventi condizione imprescindibile nell'attività di organizzazioni pubbliche o private. Sviluppo e sostenibilità, aggiunge, non rappresentano più due concetti in antitesi, ma la nuova volontà di crescita dell'area protetta in connessione con il territorio e il patrimonio ambientale. Consapevolezza e coinvolgimento le parole chiave di un percorso condiviso per il quale Plauso viene rivolto al grande lavoro svolto dall'onorevole Ugo Parolo, in qualità di presidente del Comitato di Coordinamento e Indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio, il quale però lamenta di non avere avuto al fianco nessuno di Regione Lombardia nella fase di preparazione dell'istruttoria. La cerimonia di conferimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile al Parco Nazionale dello Stelvio avverrà il 2 dicembre a Bruxelles. Grazie.